Ciao a tutti e bentornati! Sperando che Enea mi lasci almeno un quarto d'ora tranquilla, proprio l'utopia più assoluta, volevo fare insieme a voi il suo cambio di stagione. Siccome avevo in mente di fare questo video, diciamo che negli ultimi giorni il suo mobiletto l'ho lasciato un po' così, quindi adesso c'è confusione, cose invernali, cose che non gli vanno più, cose che sono invernali che però gli vanno, però vanno sempre, insomma non vi dico, praticamente ci posso capire solo io, perché se mette le mani il papà non lo so che tipo di combinazioni potrebbe fare. E niente, allora lì, aspettate che ve lo faccio vedere, piano piano, ok. Allora, lì ho quel contenitore di Ikea dove andrò a mettere i vestitini che non ne arrivano più, e parte anche qualcosina invernale che comunque tolgo e non credo che potrò mai sfruttare appunto per il prossimo anno. Sul letto, allora, questo mucchietto qui, sono dei panni che ho raccolto dallo stendino, quindi vanno piegati, mentre gli altri, eccomi, mentre gli altri fanno parte di tutti quelli estivi che ho lavato e stirato. E lì appunto c'è un bimbo, vediamo se riesco a tenerlo impegnato, non credo che la giostrina di Ikea lo tenga impegnato molto tempo, però insomma ci proviamo. Allora, il mobiletto, fado piano, ok, eccolo qui, il mobiletto di Ikea, eh sì, di Ikea, di Enea, è tutto questo qui, appunto, dell'Ikea. E niente, io lo svuoterò e darò giusto una pulita ai cassetti, semplicemente con del panno dello scottex e un po' di questo qui semplice corso qui dei vetri, perché bene o male lo pulisco, diciamo, mensilmente, quindi non è che alla fine è sporco. Adesso giro la telecamera, così vi faccio dare prima una occhiata, insomma, sommaria. Ma che sta facendo? Cosa sta raccombinando? Fa gli addominali? Aspettate che vado in suo soccorso, mi fa morire. Ok, dai, per l'appunto, quindi vi dicevo, questa è la sua, il suo mobiletto, ci sono questi due piccolini, che comunque non, cioè, questi non li sistemo, anche se voi direte, ma secondo me andrebbero sistematico, comunque qua ci sono soltanto i bavaglini, quindi non, cioè, non mi metto a piegarli, ok, perché tanto comunque poi li prendo e li butto sempre così, non ci perdo tanto tempo. Mentre in queste ci sono cose random, un po' così, che comunque non utilizzo mai. Il grosso dei suoi cassetti sono questi. Allora, questo è quello grande dove tengo i calzini, i bodini e i pigiamini. E come vedete, insomma, c'è di tutto, perché qui c'è un giubbino buttato così, ci sono scarpe, cappelli estivi, e cappelli, eccoli qua, questo è il cappello estivo, e il cappello invernale, e le pantofoline, le pantofoline, le pantofoline, insomma, c'è un po', appunto, un po' di tutto. Poi, nell'altro ci sono i vestiti, diciamo, veri e propri, però adesso sono, appunto, tutti mischiati, tra quelli più, diciamo, eleganti, quelli per casa, questi qua estivi con i pantaloncini, e quindi, niente, allora, io qui ho un bambino che sta arrivando strisciando, aspettate, eccolo qua. Lui non è che gattona, lui ha imparato a fare la mossa del giaguaro, e quindi adesso è tutto. Vi ricordate quella canzone? Con la mossa del giaguaro, giaguaromania, giaguaromania, e vabbè, se sti perché è stato ragazzina negli anni 90, ecco, io che, cioè, ho chiesto un quarto d'ora, cioè, qui non siamo neanche a due minuti. Ecco, va bene. Dove vai? E ci riusciamo lo stesso, ecco. Dicevo, qui, appunto, è tutto il grosso, io, come vedete, i vestiti li tengo divisi con i separatori qui, sempre questi qua di Ikea. Poi abbiamo, aspettate che qui siamo a rischio, chiusura, ecco, le mani nella porta. Poi qui abbiamo il... Allora, quest'altro... In quest'altro cassetto, ultimamente non ho capito che cosa ho buttato qui dentro, quindi, ok, poi lo scopriremo insieme. Cioè, questo non lo uso ormai quasi più. E anche nell'ultimo ci sono qualche giubbottino, quelli che non vanno più, qui ci sono le mie ciabatte, perché appunto sono scalza, da notare il mio smalto primavera-estate 2018. E lì i lenzuolini. Ok, vediamo di iniziare. E lì i lì i lì i lì e lì. il ragazzo dove si è andato a ficcare ecco deve prendere quello io sono lì che praticamente ho tolto tutti i contenitori adesso sto piegando sto piegando i pigiamini tolgo questi qua invernali che ormai questi qua non li usiamo più e niente insomma cerco di andare avanti allora ecco la prima parte è sistemata praticamente in questo qui grande ho messo per l'appunto tutti i pigiami ancora i pigiami li abbiamo con la manica lunga pigiamini con la manica corta ancora non ne ho non ne usiamo perché voglio dire qua in germania il clima è un po' pazzo infatti anche come cambio stagione non posso mai togliere del tutto le robe invernali quindi per l'appunto in questo qui ci sono tutti quanti i bodini però a manica lunga che ancora noi sfruttiamo e che sicuramente si sfrutteranno ancora per un po' ce ne sono un bel po' perché sono quelli insomma che ne abbiamo di più però insomma li ho messi diciamo in ordine di preferenza in modo insomma da tenere quelli per ultimi perché ce ne sono alcuni che si gli vanno però sono ancora un po' strettini però insomma per il momento ancora li li tengo appunto perché non si sa mai quindi questi poi qui abbiamo i calzini tra l'altro questi due sono spaiati non so che fine abbiano fatto calzini ne ho comprato qualcuno nuovi della misura questa qua un pochettino più grande perché gli altri sono tutti un pochettino piccolini però non credo di comprarne anche perché voglio dire calzini non è che ne servano insomma poi noi stiamo spesso a casa a piedi nudi quindi insomma va bene così qui ci sono le scarpine per lo stesso discorso anche le scarpine io ne ho usate pochissime proprio perché non mi piace mettere le scarpe ai bambini perché la trovo una cosa che non è che ha senso anzi secondo me danno pure fastidio infatti le ho racchiuse qua tutte diciamo le pantufoline queste qua per la neve e queste qua sono state tra le prime che mi aveva regalato mia mamma verso 6 mesi di gravidanza più o meno insomma le ho messe tutte quante qui in questa bustina e ho lasciato queste queste pure sono nuove vediamo insomma se magari bisogna anche vedere insomma se lui le vuole questi deliziosi sandaletti che poi alla fine non sono neanche scarpe perché vedete che sono così e quindi insomma le ho messe le ho messe qui e niente lì ci sono pigiami che devo appunto mettere via questi qua di flanelle questi qua in cotone un pochettino più pesante e tra l'altro questo non gli va nemmeno più e mi è avanzato anche uno di questi ok adesso ok adesso li vado a sistemare insomma nel nel mobiletto ok ora svuotiamo anche questo allora il secondo cassetto è un pochettino più insomma faticoso da fare perché appunto ci sono tutti i suoi vestitini e tante cose invernali che adesso appunto dovrò mettere via tra cui ad esempio questo giacchettino che però non l'ho comprato quest'inverno però comunque troppo grande tu senza che ti avvicini e alla fine insomma non glielo ho mai messo tra l'altro qui la cerniera non riesco più neanche a chiudere vabbè è uguale e quindi insomma conto di metterglielo per il prossimo anno tieni tieni gioca con questo per il momento stai lì stai lì e ho ad esempio anche questo qui che ancora va grande questo qui guardate com'è bello questo gliel'ha fatto mia zia io ho tante cosine fatte a mano da mia zia questo qua bellissimo però appunto ancora va grande e questo qui che pure glielo conservo questo cardigan con il cappuccio no ma che devi spiare spostati con le orecchiette e questo lo conserviamo pure perché è abbastanza grande quindi può andar bene per il prossimo anno e questo qui invece è ancora nuovo ed è 12 mesi però insomma ancora è grandicello più che altro il pantalone non tanto per per la maglia quindi questo qua conto di utilizzarlo credo verso settembre sì credo che per settembre lo posso utilizzare e quindi lo terrò direttamente qui nel nel mobile e quindi andiamo perché qui la situazione sta diventando sempre più faticosa ecco qui che ho sistemato anche questi e ho utilizzato il contenitore in più che mi era avanzato dal primo allora in questo ci sono tutti quanti i pantaloncini e ancora qualche felpa però queste qua di cotone allora aspettate che devo mettergli con cuscino prima che mi cava dal letto e queste qua comunque in cotone che ancora le stiamo usando e appunto qua sono tutti quanti i pantaloncini diciamo cose non propriamente estive qua invece ci sono appunto tutte le ecco adesso me le smonta tutto ecco ecco no 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 amore mio no tesoro che ti do per giocare che gli diamo per giocare aspetta no tieniti tieni gioca con le bratelle tieni gioca con le bratelle tieni non mi guardare che ti ho detto una cosa che non ti piace gioca con queste allora qua ci sono tutte quante le cose estive sta puntando un altro no le magliette estive vado veloce però a manica a manica lunga qua invece tutte le magliettine estive a manica a manica corta eccole qua di tutti i colori qui invece abbiamo i pantaloncini quelli lì insomma spaiati che si devono accoppiare in base ai colori in base ai colori con queste e mentre in quest'ultimo contenitore in quest'ultimo no amore mio dai in quest'ultimo contenitore invece ci sono le cosine diciamo più elegantine per quando insomma si esce per farsi belli ragazzi tutto mi sta smontando la salopette ci sono le camicine e insomma questi completi così metto subito a posto perché qui la situazione sta degenerando no basta senza che fai le labbra storte così ecco qua ho sistemato nel nel cassetto in quello lì che avevo fatto vedere che ci sono le cose insomma più eleganti per quando magari si esce si va a qualche parte carino l'ho messo lì insomma meno meno pratico però insomma non lo uso tutti i giorni perché alla fine tutti i giorni io uso questi qui dietro ho messo quelle cose un pochettino più diciamo primaverili che appunto qui purtroppo servono sempre perché ci sono giornate che fa 30 gradi e poi una perturbazione il clima ritorna a 12 13 quindi ripeto non posso mai togliere del tutto le cose invernali qui che mi era rimasto punto tutto questo spazio vuoto ne ho approfittato e per lo stesso motivo ho messo delle delle felpe un maglioncino questo qua di filo un altro maglioncino questo qua carinissimo della linea fagottino cardigan e quindi insomma le ho messe qua in modo che se servono ecco si possono subito insomma prendere ok vediamo se riesco a continuare però diciamo che il grosso l'abbiamo fatto allora in questo in questo qui ho soltanto dato una riordinata perché non c'era niente da da fare alla fine ci sono qua i suoi accappatoi i telini questi qua di cotone che adesso si ritornano ad utilizzare le questi quadrotti di di chea qui c'è un altro cuscino paracolpi quindi niente soltanto dato una sistemata e via nel frattempo lui è lì sotto nel frattempo ho ritrovato uno dei calzini spaiati allora questa adesso è la situazione queste cose qui che vedete sono tutte robe da da mettere via che metterò qui tra l'altro volevo fare un piccolo appunto io di mio non non butto niente non ho buttato niente dei vestitini di enea uno perché me ne dispiace aspettate che mi siedo allora uno perché me ne dispiace e due perché comunque essendo che io dire ne ho talmente tanti come alla fine quasi tutte noi e quindi alla fine sono utilizzati proprio proprio poco non è che sono mai così consumati o rovinati da insomma gettarli via quindi io li conservo insomma sa mai dovesse mai allargarsi la famiglia insomma non lo so l'unica cosa che che butto è questa che praticamente questo bodino però a polo di h&m perché praticamente si è macchiato insomma con i vari non so se si vede aspettate con i vari rigurgiti ok lavata rilavata smacchiata però insomma è sempre qui quindi insomma questa la la butto perché non avrebbe neanche senso conservarla e nel frattempo ecco qui parte del marasma che c'è adesso sul che c'è adesso qui sul letto quindi insomma sistemo quello riordiniamo anche il letto e così chiudiamo questo cambio stagione sì i capelli sono sempre super sconvolti anche pure sudata e niente appunto questa questo cambio un po movimentato è terminato lo spero insomma che vi ha tenuto compagnia magari che vi ho strappato anche qualche sorriso non lo so io niente vi saluto vi mando un bacio grande se vi va ci vediamo la prossima ciao